Capisce questo? Capisce il bavaglio che è stato messo per 45 anni? Grazie mille. Senti, io ci sono i libri della merdina. Mi hanno regalato una volta che sono venuto da queste parti, mi hanno regalato tutto. La prego di trovare il tempo di leggerlo e vedrà cosa c'è scritto. Faccio la mano. Perché il bavaglio... I caroni se lo fanno sparire, non glielo fanno leggere. Oh beh, addirittura. Non glielo fanno leggere. Soprattutto non glielo fanno leggere. Grazie mille.